buonasera buonasera a tutti ragazzi buonasera operativi come sempre siamo tornati con questo nuovo intervento fatto il live un po a sorpresa sicuramente non ho annunciato in alcun modo questa live ma ragazzi veramente sono giorni impegnativi abbastanza caotici è uno dei motivi questo per il fatto che non sono riuscito a caricare video in questi giorni ma non solo ma non solo perché dopo la partita pessima di sabato contro il sassuolo sinceramente la voglia di mettermi davanti alla telecamera era veramente poca ma a parte questo c'erano anche motivazioni comunque legate a impegni e quant'altro però però cerchiamo con questa live improvvisata e comincio a vedere già comunque diverse persone che si stanno collegando ben 13 ragazzi mi raccomando lasciate un bel pollice in su saluto subito freddi rosso blu alessio azica dermet del celso davix leonardo viola bene bene ragazzi mi raccomando un bel pollice in su allora ragazzi parliamo di tutto parliamo di tutto perché veramente sta succedendo di tutto di più e nel motivo sostanzialmente per il quale ho deciso di fare una live per quale motivo perché questi giorni sono veramente giorni caotici lo sapevamo sapevamo conoscendo chiaramente la storia recente del Cagliari che saremo arrivati negli ultimi due giorni all'ultime 48 ore con situazioni appunto ancora da decidere e io ragazzi personalmente considerando che il tempo a disposizione è veramente poco come vedete sono in macchina perché sono sempre in giro e quindi non posso veramente fermarmi a fare video soprattutto non posso fermarmi a fare 50 mila video ho detto facciamo una live sfruttando il cellulare spero vivamente che mi sentiate spero vivamente che la connessione possa essere decente quindi mi raccomando anche se mi date dei feedback in tal senso sarei molto contento allora cominciamo a fare un po di ordine e intanto magari saluto anche le altre persone che ci hanno ci sono venute a trovare quindi alessandro raccarato dario 75 fication riccardo s antonio remma lorenzo favilli vediamo un po vediamo un po altri commenti bene bene alessandro carta benissimo ragazzi un bel polizio mi raccomando non costa niente allora iniziamo da quella che dovrebbe essere una ufficialità una ufficialità che dovrebbe credo arrivare già forse in serata massimo domani mattina ovviamente mi sto riferendo a despodov questo attaccante bulgaro classe 96 allora ragazzi partiamo dal punto che io non lo conosco come spesso succede relativamente al calcio mercato del Cagliari negli ultimi anni ci hanno abituato appunto ad individuare giocatori esteri giocatori appunto provenienti da altri campionati io personalmente spesso volentieri è successo appunto che non li conoscessi quindi faccio lo stesso ragionamento che ho fatto per oliva nella settimana scorsa quando è stato ufficializzato non conoscendolo chiaramente faccio delle valutazioni semplicemente legate al fatto che bisognerà aspettare il campo bisognerà aspettare il campo anche se una cosa posso dire una cosa posso dirla io personalmente sono abbastanza basito da come il Cagliari stia ragionando in questo mercato per quale motivo perché personalmente personalmente credo che appunto nel calciomercato di gennaio dovessero essere fatti degli interventi appunto sicuri quindi diciamo di persone di giocatori che potessero essere certi sul piano chiaramente prestazionale invece invece io non capisco perché il Cagliari stia facendo tutto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare che dovrebbe fare prendendo sostanzialmente giocatori o che provengono da altre realtà e quindi chiaramente mi riferisco ad oliva e appunto a questo despudov o se no prendendo giocatori comunque come probabilmente luca pellegrini classe 99 primavera dalla roma che se ne potrà dire tutto quello che volete un gran bene eccetera ma è pur sempre un classe 99 tra le altre cose poi quella è un'operazione che a me non piace semplicemente per il fatto che è un prestito oneroso con un diritto di riscatto e questo sarebbe buono ma c'è ovviamente anche un contro di riscatto in favore della roma quindi insomma personalmente un'operazione quella di luca pellegrini che non mi piace non mi piace perché comunque nel caso in cui il giocatore dovesse far bene ed è evidente che nel momento in cui arriva un giocatore a Cagliari io auspico che possa far bene perché non è che dica no no spero che vada male assolutamente no io spero che vada bene chiaramente come acquisto anche se ho dei dubbi legati chiaramente alla sua giovane età al fatto che sia un classe 99 al fatto che abbia fatto comunque poche presenze in serie A ragazzi personalmente è chiaro naturalmente che arriva a Cagliari magari fa bene e beh abbiamo praticamente svezzato il giocatore appunto per la roma insomma è una cosa sinceramente che non mi piace è motivo per cui appunto avrei sicuramente virato su altre tipologie di profili riguardo a Despotov chiaramente che cosa vi posso dire vi posso dire che è un giocatore giovane è un giocatore anche qui di cui si parla bene a livello appunto di Bulgaria si parla veramente di un ottimo prospetto ma è un ottimo prospetto quindi chiaramente insomma c'è un discorso di ambientamento c'è un discorso di aspetto chiaramente di prestazioni cioè legato al campionato italiano che non è certamente lo stesso che giocare appunto nel CSKA Sofia squadra da cui appunto il Cagliari lo va a prelevare per una cifra intorno ai 2 milioni di euro insomma a me personalmente questo è un acquisto che sdubbia particolarmente sdubbia particolarmente detto questo ovviamente il campo il campo ci dovrà dire se questo sarà stato un acquisto ottimale o meno diciamo che perlomeno perlomeno la società ha capito alleluia l'ha capito praticamente al ridosso della fine del mercato che il ruolo di terzino e sinistro e il ruolo di seconda punta comunque l'attacco dovevano essere rinforzati diciamo che mi aspettavo altro diciamo che mi aspettavo altro ho particolari dubbi ho particolari dubbi però ripeto soltanto il campo ce lo potrà dire se questo sarà comunque un buon acquisto se questi saranno dei buoni acquisti andiamo a leggere comunque i vostri commenti perché l'obiettivo di questa live nasce chiaramente con proprio la volontà di fare un raffronto tra di noi intanto mi lavo il cappello perché qui in macchina comincia a fare un po' caldo allora poi parleremo anche di Sau assolutamente che è quasi ufficiale la Sampdoria assolutamente ne parleremo intanto c'è questo sole che un po' mi dà fastidio spero che mi vediate vediamo un po' Piniolo ciao Andri Giacoleo si sente bene molto bene Bruno Alves si è volto amato aspettiamo i der nei denti Freddy Rossoblu visite mediche di Despa dove a Villa Stuart si ho letto ho letto infatti è il motivo per cui ho detto prima che il giocatore comunque dovrebbe essere ufficializzato dal Cagliari credo in serata a massimo domani mattina intanto saluto anche Antonio G Matteo Spoletini Alessandro Naccarato dovete giocare assolutamente con Pajac e cedere il greco il problema è che Pajac probabilmente andrà all'Empoli andrà a Empoli per quel che ne so io insomma e l'arrivo comunque di Pellegrini dovrebbe confermare in qualche modo questa voce perché perché appunto da quello che so Pajac Frosinone non si farà è molto probabile invece che Pajac vada all'Empoli ed è una operazione sinceramente rispetto alla quale sono molto molto contrario perché comunque va a rinforzare una diretta concorrente che gioca con il 3-5-2 in cui Pajac può rendere sicuramente il meglio e soprattutto c'è una logica di presto con obbligo di riscatto in caso di salvezza dell'Empoli che mi fa veramente rosicare che mi fa girare le palle a 2.000 come ho già detto nel video post partita di Sassolo Cagliari personalmente il fatto che si mantenga in rosa uno scarto uno scarso come Lico Giannis e si vada a cedere un giocatore come Pajac che sicuramente non è un terzino che sicuramente avrà delle lacune difensive ma almeno la fase offensiva la sa fare Lico Giannis non sa fare né la fase offensiva né la fase difensiva questo veramente lo reputo un controsenso un controsenso e quindi qualora dovesse essere confermata la voce che porta a Cagliari Pellegrini con questa operazione presto oneroso con diritto di riscatto e contro riscatto e quindi già questa operazione per come viene fatta non mi piace in più c'è il fatto che è un giovane classe 99 in più Pajac che è nostro andiamo a cedere all'Empoli sostanzialmente non dico a titolo definitivo bisognerà vedere appunto se l'Empoli si salverà o meno ma al momento la classifica ci dice che l'Empoli è salvo quindi a me personalmente questa è un'operazione che nel complesso nel compito totale non mi piace assolutamente vediamo un po' altri commenti Alessandro Naccarato, Sau ormai ha fatto il suo tempo e deve andarsene sicuramente Marco Sau come sapete come avete letto c'è un presito se non mi sbaglio con diritto di riscatto in favore della Samp relativamente a Marco Sau credo che diciamo sia una scelta giusta Sau per quello che ha fatto insomma ultimamente anche in questi mesi ma anche l'anno scorso insomma il suo apporto purtroppo è stato sicuramente sempre più deficitario personalmente l'unica gioia che ci ha regalato è stata appunto quella del 2-2 contro la Roma troppo troppo poco insomma qualcuno là davanti doveva fare spazio è chiaro che il fatto che Sau ha da via mi fa ragionare mi fa ragionare rispetto a un discorso legato anche a Diego Farias perché comunque ragazzi potrebbe veramente avere del clamoroso il fatto che Farias per il secondo anno consecutivo sempre nel calciomercato invernale vuole andare via dichiara apertamente di voler andare via l'anno scorso era prossimo al trasferimento al Sassuolo solamente per una questione di tempi di minuti non c'è andato sarebbe clamoroso se anche quest'anno nonostante una volontà conclamata e dichiarata di Farias tramite anche il suo agente sarebbe clamoroso se Diego Farias rimanesse a Cagliari il fatto che Sau vada via onestamente mi crea dei dubbi mi crea dei dubbi per quale motivo perché se Sau ha la Sampdoria mi viene difficile pensare che si vada ad accedere anche a Farias a meno che a meno che non ci sia un altro ingresso in attacco e lì è tutto da vedersi ma al momento di nome non ne sono usciti con Nacchi che era stato accostato da Cagliari mi pare che appunto vada in Mudesliga quello era un profilo sinceramente che a me non sarebbe dispiaciuto perché perlomeno un po' il campionato italiano lo conosceva e quest'anno non ha trovato spazio perché comunque Quagliarella, De Freelo, ora è arrivato anche Gabbiadini insomma la Sampdoria là davanti ha veramente un sacco di gente infatti anche Sau non so quanto potrà giocare alla Sampdoria sinceramente non lo so, non so di che cosa se ne faccio la Sampdoria di Gianpaolo di Marcosau ma ad ogni modo insomma anche questo discorso comunque di Farias è da valutare, è da valutare e Kovnacic poteva essere un profilo interessante ma va in Bundesliga intanto saluto il grande Miro, ciao Miro Alessandro Naccarato, Pellegrini al posto del Greco subito Pellegrini al posto del Greco sarebbe già un'operazione che in qualche modo mi potrebbe piacere di più pur sempre con i dubbi che vi ho appena espletato cioè classe 99 e poi un'operazione comunque fatta in favore della Roma nel caso in cui il giocatore esplodesse però già ci liberassimo di Lico Giannis e mantenessimo il Rosa Pajac a me personalmente quella già sarebbe una soluzione migliore Bruno Alves di volta armata aspettiamo Eder e Nandez nei denti sì chiaramente Eder ormai era una pista di cui si era parlato a novembre e non c'è mai stata realmente a gennaio Nandez insomma sappiamo perfettamente che questa tenerovela è durata tantissimo insomma io non credo appunto che a questo punto Nandez arriverà ma neanche a giugno neanche a giugno penso perché comunque per come si sono lasciate Boca e Cagliari insomma la vedo difficile Pignola la cessione di Sao è ufficiale ormai non è ancora ufficiale ma è data per certa praticamente Matteo Spolettini Andrea una domanda per il Fanta me lo consiglieresti Farias come sesso slot in una Lega 12 ma prendilo pure insomma va valutato anche chiaramente il destino del Basiliano a livello appunto calcistico di dove andrà se rimarrà Cagliari te lo potrei anche consigliare perché nonostante tutto nonostante tutto nell'ultima partita Farias tre gol te li ha piazzati e sono stati anche tre gol decisivi poi riguardo al discorso Cagliari io dico una cosa non si deve assolutamente assolutamente tenere qualcuno contro voglia men che meno un giocatore come Farias che comunque è stato scostantissimo scostantissimo negli ultimi anni, negli ultimi tempi ovviamente sul piano del campo c'è da dire che se va via Farias un po' mi preoccupo pensate voi come siamo arrivati a in qualche modo dover ragionare pensate voi perché? Perché la pochezza a livello offensivo del Cagliari è tale per cui addirittura una cessione di Diego Farias preoccupa pensate voi come siamo arrivati comunque per il fantacalcio devi valutare chiaramente il destino del Brasiliano se dovesse andare all'Atalanta di cui si parla in queste ultime ore l'Atalanta è interessata, Gasperini è interessato io sinceramente non so quanto spazio potrebbe trovare Farias però è vero anche che Gasperini con Farias insomma potrebbe fare un bel lavoro e quindi chi lo sa però è una scelta comunque legata sostanzialmente al suo destino Mario Cossa, via anche Farias, Castello Tube Farias verso la Samp anche lui addirittura questa è una novità di cui non sapevo prima di entrare in live avevo letto soltanto di Sao la Samp e questo avrebbe onestamente del Camoroso ma la Sampdoria quante attaccanti avrebbe? cioè avrebbe veramente un sacco di gente là davanti mi sembra un po' troppa eh nel senso, non lo so non capisco come stia operando la squadra di Ferrero e guidata da Marco Giampaolo non so a quale modo lo voglio applicare insomma perché De Frel, Quagliarella, Gabbiadini a gente come Saponara, come Gaston Amirez se arrivasse anche Sao se arrivasse anche Farias mi sembra un reparto offensivo un po' affollato sarebbe, diventerebbe un po' affollato Despodov mi ricorda Seter Valencia ragazzi io riguardo a Despodov non mi esprimo ho visto qualche immagine ma ribadisco guardare i video su Youtube è inutile è inutile perché comunque un giocatore tu lo devi valutare lo puoi valutare guardando le partite in un contesto generale di partita come si muove, come tocca il pallone come serve i compagni e tutto il resto lo devi valutare indubbiamente anche per quanto concerne il campionato per quanto concerne il campionato il livello di difficoltà del campionato e non mi sembra chiaramente che il CSKA Sofia giochi in un campionato così insomma competitivo quindi personalmente io mi esprimerò soltanto quando lo vedrò con il Cagliari cercando di non giudicarlo per forza negativamente subito di primo impatto nel caso in cui dovesse farmi vedere cose negative o viceversa nel caso in cui dovesse farmi vedere cose positive non giudicando il fenomeno mi auguro che possa essere un acquisto azzeccato ho dei dubbi ho dei dubbi ragazzi ho dei dubbi sinceramente ho dei dubbi non mi piace la logica con cui stiamo operando per quale motivo? perché tu giocatori giovani dovresti prenderli quando e come? in estate sicuramente non a gennaio e comunque in un contesto di squadra in cui questi giovani specialmente stranieri si possono ambientare nel campionato italiano possono crescere accompagnati dall'esperienza magari di giocatori invece che comunque giocano a Cagliari o in Serie A da più tempo e dovrebbero crescere in maniera tranquilla cercando chiaramente quando chiamati in causa di dare il loro apporto a me personalmente il fatto che questo Despodov che questi Pelligrini che Oliva debbano arrivare come salvatori della patria mi sembra una cosa veramente ingiusta soprattutto nei loro confronti soprattutto nei loro confronti lo dico apertamente è una cosa che a me personalmente dà fastidio perché mi dispiacerebbe che poi questi giocatori dovessero essere attaccati da noi tifosi perché chiaramente vengono messi in un contesto di squadra dove ci sono delle difficoltà indubbie e evidenti che soltanto un cieco appunto non potrebbe vedere e vengono quindi buttati in campo e il rischio è quello che possono andare incontro a dei commenti a dei giudizi magari affrettati e magari potrebbero anche compromettere sostanzialmente la loro carriera da un certo punto di vista a me non piace questa logica spero comunque di sbagliarmi perché sono prima di tutto tifoso del Cagliari e quindi sostengo la mia squadra a prescindere da tutto però è una logica questa di mercato che non mi sta piacendo intanto saluto anche Stefano Traverso ciao Stefano Bruno Alves si rivolta armata abbiamo preso il bulgaro per montare le giostre a Santa Greca ok qui ovviamente i commenti diciamo si sprecano ma se non lo conoscete almeno siete diritti Riccardo S è assolutamente d'accordo con te io non mi esprimo lo ribadisco non mi esprimo non mi piace questa logica l'ho già detto però aspetto aspetto di vedere il campo è giusto che sia così è giusto che sia così però ovviamente visto che siamo qua visto che dobbiamo ragionare un pochettino del calcio mercato del Cagliari di queste ultime ore frenetiche diciamo che dobbiamo dire qualcosa quindi al momento non è che diciamo sia così contento Pellegrini è forte lo seguo dalla primavera ma che Pellegrini sia un giocatore di prospettiva interessante non lo nego però secondo me lì noi avevamo bisogno di qualcos'altro di maggiore certezza visto che quella è una fascia in cui sostanzialmente tra padone inadattato e che praticamente a livello di condizione atletica non ce la fa più Lico Giannis che non sa fare né il difensore né l'attaccante un Pajac che sembra praticamente ormai essere destinata all'uscita e quindi appunto andare in Poli sinceramente non lo so tante responsabilità nei confronti di questo Pellegrini tante responsabilità ed è proprio il discorso che dicevo prima non vorrei che queste responsabilità e queste pressioni portassero magari il giocatore a non esprimersi al meglio in un contesto comunque tranquillo che invece sarebbe necessario per un giocatore giovane classe 99 ricordiamoci classe 99 ragazzi Riccardo S come se piante che fosse Gesù Cristo quando arrivate al Geno no no ma assolutamente però ribadisco che comunque arrivare in estate è già un po' diverso rispetto a arrivare a gennaio con delle difficoltà con una situazione appunto ambientale particolare insomma non è sicuramente semplice Stefano Traverso Andrea questo ne ha acquisto bulgaro del Cagliari Despodov è così talentuoso da Serie A team non lo so non lo so Stefano non lo so lo stiamo dicendo praticamente da una ventina di minuti onestamente non lo so a me personalmente è un giocatore che non riesce in questo momento a darmi delle indicazioni chiare ed evidenti so che è un giocatore veloce so che è un giocatore che sembra saper trattare il pallone ma ripeto giocare al CSKA Sofia è una cosa giocare nel Cagliari nel campionato di Serie A è un'altra quindi è chiaro che valutarlo positivo o negativo al momento è diciamo difficile è difficile Carlo Rassu e ci siamo mantenuti di Lico Giannis probabilmente sì ma perché questo è quello che sostanzialmente è trapelato dallo stesso agente dallo stesso agente del Greco che ha detto appunto che il Cagliari vuole continuare a dare fiducia a Lico Giannis è una cosa che io reputo assolutamente incomprensibile la gara di sabato contro il Sassuolo penso che abbia chiarito ancora una volta l'inadeguatezza di Lico Giannis come terzino sinistro non so veramente che dirti è una scelta che non approvo assolutamente Luca Pellegrino è un ottimo acquisto da parte della Roma sicuramente potrà far bene speriamo speriamo Alessandro Naccarato Piontek è un caso a parto beh sicuramente non è che sono tutti Piontek insomma tra l'altro esordi veramente da urlo ieri con il Milan tanta tanta roba ma quale caso nessuno gli dava un centesimo quando è arrivato vabbè qui state ancora parlando di Piontek quanto è scandaloso Lico Giannis l'abbiamo già detto vediamo un po' altri commenti oh che re che che si fa ma ragazzi anche questo è un giocatore che io personalmente non conosco gioca mi sembra nello Spezia ma ragazzi io personalmente non l'ho non l'ho seguito e quindi anche quella sarebbe chiaramente una situazione più incerta certo è la Serie B italiana magari un pochettino meglio rispetto a un campionato estero però diciamo che i dubbi ci sarebbero lo stesso poi non so neanche se si andrà a concretizzare quest'altra pista ma ci conviene perdere Sau e Farias allora Castello Tube su Sau secondo me al momento sì cioè secondo me Sau non è utile alla causa onestamente mi dispiace per Marco perché comunque ci sono molto affezionato ci sono molto affezionato e io ho sempre creduto che Marco Lino fosse un giocatore dotato di una tecnica e di una capacità realizzativa comunque che in Serie A sinceramente non era poi così comune non sto dicendo che Sau sia un fenomeno fosse un fenomeno però secondo me ha avuto anche tanta sfortuna tanta sfortuna con le infortuni avendo un frisico sicuramente fragile ha avuto sfortuna nell'imbattersi anche se vogliamo in Massimo Rastelli che lo ha sostanzialmente un po' traviato l'ha traviato perché comunque li faceva fare il centrocampista il difensore piuttosto che l'attaccante sono stati anni duri quelli di Sau con Rastelli che lo hanno sostanzialmente rovinato da un punto di vista psicologico facendoli perdere fiducia facendoli perdere chiaramente la tranquillità necessaria per un giocatore e per un attaccante quindi è chiaro che Sau ha avuto tante tante situazioni difficili da gestire però onestamente ragazzi in questo momento non si può pensare al sentimento non si può pensare a quello che ha fatto Sau in passato bisogna pensare al presidente e Sau al momento ha dato poco ha dato soltanto una gioia contro la Roma lo ringrazierò tantissimo per quella gioia ma bisogna andare avanti riguardo a Farias ripeto su Farias avrete dubbi ma il discorso è Farias vuole rimanere o non vuole rimanere a Cagliari perché se un giocatore vuole rimanere è un conto e allora è giusto naturalmente non cederlo e Farias può essere anche giusto tenerlo secondo questa logica perché? perché si sta riprendendo perché sta facendo comunque meglio rispetto a quello che ha fatto in passato ma se Farias dichiara apertamente di non voler rimanere io ragazzi non trovo sensata non trovo assolutamente sensata la scelta eventualmente di trattenerlo ancora per un altro anno dopo che anche l'anno scorso a gennaio di questi tempi voleva andare via quindi il discorso secondo me su Farias è legato essenzialmente alla sua volontà se la sua volontà è di andare via è giusto che vada via al di là del fatto che poi il Cagliari riesca a trovare un sostituto all'altezza o meno ma è controproducente secondo me tenere un giocatore contro voglia andiamo avanti Alessandro Naccarato Pajak è forte non capisco perché Mastrolindo Maran debba preferirli quell'aborto di Lico è una roba assurda poi chiaramente che Pajak non sia il terzino sinistro più forte in assoluto l'ho già detto ma sarebbe stato anche auspicabile secondo me un cambio modulo un 3-5-2 un 3-4-1-2 poteva essere perfetto Pajak a sinistra Faragò a destra insomma risolvevamo secondo me diversi problemi parere personale Farias parte è probabile è probabile ma non mi sorprenderei se alla fine dovesse rimanere vi diamo un po' altri commenti saluto anche Giorgio Piras Alessandro Naccarato rendete il bulgaro un personaggio mediatico come è successo con Piontek ragazzi non lo so spero spero ma onestamente insomma non voglio attaccarmi troppo a questa speranza insomma perché se no rischerei poi di rimanere deluso visti i video sul bulgaro sbaglierò ma appare più una punta centrale che un attaccante esterno almeno è giovane e molto di gamba in realtà invece si dice che il suo ruolo principale sia quello di ala sinceramente al che infatti ho pensato ma non è che si vuole cambiare modulo eventualmente ma conoscendo Maran conoscendo l'integralismo di Maran anzi l'ottusità perché secondo me questo non è integralismo ma è ottusità è un restamento dei dubbi e quindi è probabile che venga acquistato semplicemente per ricoprire il ruolo di seconda punta poi è chiaro il fatto che sia giovane di gamba insomma speriamo Nicolas Ordas ciao Andrea perché la squadra non gira non gira per tanti motivi non gira sicuramente perché si è persa serenità perché l'infortunio di Castro comunque ha determinato più del dovuto ci deve essere secondo me stato qualcosa anche all'interno dello spogliatoio che in qualche modo è venuto a mancare un rapporto di fiducia secondo me tra allenatore giocatori e allenatore presidente che non lo so se stia cominciando un po' a venire meno e un rapporto quindi che stia cominciando a scriccolare io mi auguro vivamente di no io vorrei essere veramente contrario all'idea di esonerare Rolando Manan perché comunque al di là del fatto che è stato un investimento importante un contratto triennale 900.000 euro all'anno ragazzi non consideriamo questo aspetto secondario contratto triennale e 900.000 euro all'anno sono tanti sono tanti per le case del Cagliari e esonerare praticamente nel mezzo della prima stagione Rolando Manan sarebbe veramente un fallimento sotto tutti i punti di vista io personalmente sarei dell'idea di provare a dare continuità a questo progetto tecnico che era partito secondo me comunque bene che era partito con degli auspici positivi e non lo dico tanto per ma lo dico perché il campo inizialmente aveva dato queste idee aveva dato appunto questa idea da questo punto di vista purtroppo purtroppo poi è successo qualcosa che è andato a rompere un po' il giocattolino e negli ultimi due mesi siamo sostanzialmente tornati lentamente quelli dell'anno scorso perché il Cagliari visto sabato con tutto il suolo sembrava veramente quello dell'anno scorso una cosa veramente obrebrosa che mi ha portato sostanzialmente a fare quel video sfogo ad essere incavolato che mi ha portato sostanzialmente a non parlare in questi giorni perché non volevo parlare perché se avessi parlato in questi giorni avrei sostanzialmente tirato fuori concetti negativi non volevo essere bannato come la solita Cugurra il solito pessimista però in questo momento ragazzi sicuramente la situazione che ho visto sabato in campo è una situazione critica e dovendo affrontare Atalanta e vi ho detto tutto Milan che adesso si sta riprendendo ragazzi ieri partitone allucinante del Milan a parte Pionte che ho visto ovviamente un Milan in crescita e quindi ho paura il Parma che è comunque una squadraccia poi dovrei affrontare la Sampdoria in trasferta in casa della Samp dovrei affrontare l'Inter in casa ragazzi stiamo parlando delle prossime 5 partite come 5 partite in cui il Cagliari se dovesse giocare come ha giocato sabato ragazzi io non è per essere pessimista ma qui non si prende neanche un punto ve lo dico perché incontriamo tutte squadre forti tutte squadre in forma a parte l'Inter che chiaramente magari non è in momento di forma eccezionale ma è comunque per sempre l'Inter quindi ragazzi dobbiamo svegliarci deve esserci una sveglia generale perché il Cagliari deve assolutamente cominciare a pedalare il giro di ritorno è iniziato nel peggiore di modi e quindi personalmente bisogna svegliarsi è chiaro che io da questo calciomercato mi aspettavo delle risposte vedremo domani alle ore 20 quali saranno le risposte dei dubbi ce l'ho ce l'ho ma sosterò sempre comunque la mia squadra questo deve essere chiaro a prescindere dalle critiche poi mi incazzerò mi arrabberò farò i video sfoghi però il sostegno non mancherà mai non mancherà mai non è mancato l'anno scorso in quella situazione disperata nelle ultime tre partite non mancherà mai quest'anno questo sicuramente lo ve lo do per certo Bruno Alves di volta armata ancora con Lico Giannis e con quella bestemma di Andreoli e lo so lo so purtroppo avere in Rosa due giocatori del genere veramente ti fa capire a che livello siamo Andreoli come ha fatto a diventare così scarso ma probabilmente Andreoli non è mai stato un fenomeno insomma a Cagliari poi può darsi che sia anche peggiorato assurdo davvero Andrea che ne pensi di Romero allo Juventus a generale di questo calciomercato invernale Romero può essere sicuramente una buona operazione per il futuro per l'Ojuventus la Juventus è anni luce avanti a tutti da questo punto di vista perché Pellegrini boh non lo so perché Pellegrini non lo so nemmeno io Tom sinceramente anch'io ho dei dubbi Casato Tube la Serie A è altra cosa non fate paragoni con Piontic lasciatelo giocare tranquillo Antonio Di Lecce che ne pensi di Despodov è quello che sto dicendo praticamente da inizio live non lo so non lo conosco non sono così contento dell'idea che si punti su un giocatore classe 96 un giocatore che ha militato nel CSKA di Sofia non sono contento che si punti su un giocatore simile per gennaio in un momento in cui l'attacco veramente fa ridere in cui l'attacco è praticamente Pavoletti dipendente in cui Pavoletti non riesce neanche ad essere servito a dovere onestamente attribuire tutte le responsabilità su questo giovane classe 96 proprio come poteva essere successo l'anno scorso con Setter quando è arrivato che si pensava appunto che fosse chissà chi perché l'investimento del Cagliari era comunque stato un investimento importante e poi abbiamo visto che Setter è stato costretto chiaramente ad essere girato all'olbia perché non in grado appunto di affrontare il campionato di Serie A beh ragazzi io ripetisco ho dei dubbi ho dei dubbi spero vivamente di sbagliarmi spero che questo Desbotov possa essere un profilo interessante certo è che se viene a Cagliari pagandolo 2 milioni onestamente dei dubbi ce l'ho però non voglio essere il pessimista di Turo ragazzi perché sennò appunto rischio sempre di cadere nel pessimismo e queste cose qui ecco Carlo Rassu dice stiamo preparando la squadra per la Serie B spero di no spero di no insomma da questo punto di vista Pellegrini Luca non stiamo parlando chiaramente di Lorenzo il centrocampista ovvio Alessandro Nacarato se retrocedete davvero bisognerebbe lanciare gli oggetti ai giocatori e società visti in elementi delle ultime quattro stagioni ma io penso che principalmente dovrebbe essere fatto nei confronti della società perché poi i giocatori secondo me hanno responsabilità sì sicuramente ma poi chi fa le squadre insomma la società Giulini il DS che poi anche Carli insomma si sta rivelando almeno per il momento abbastanza un burrattino di Giulini a me questa cosa fa arrabbiare fa ridere perché si farebbe prima a dire guardate tutte le decisioni le prende Giulini e lo sappiamo perché poi lo sappiamo perché c'è dell'incompetenza e chiaramente Giulini ha dimostrato più volte di essere mi dispiace ma ha dimostrato di essere un incompetente di calcio c'è poco da fare l'ultimo vero di S è stato Capozucca appunto si sono sentite voci anche su Mattiello sì si sono sentite voci su Mattiello credo che ci sia questa voce in conseguenza del fatto che Pellegrini comunque non è ancora certo perché l'accordo per Pellegrini è stato trovato è stato individuato tra Roma e Cagliari ma da quello che so il giocatore non ha ancora trovato l'accordo addirittura si vociverava pochi giorni fa che Pellegrini non avesse intenzione di lasciare a Roma soprattutto che non volesse venire a Cagliari a me personalmente questa cosa fa un po' ridere però insomma non voglio giudicarlo negativamente avrà avuto nel caso le sue motivazioni magari semplicemente stava valutando alcuni aspetti ad ogni modo l'accordo tra le due società c'è manca quello tra il sodalizzo rosso blu e il giocatore vedremo e chiaramente Mattiello può essere una pista in tal senso nel caso in cui non andasse a buon fine Pellegrini Castello Tube si sta trattando Mattiello probabile via Lico e Payac su Lico Giannis sarei contento ma la vedo difficile la vedo difficile perché Lico Giannis non mi pare che abbia mercato e stando alle dichiarazioni della gente che ha dichiarato che la società Cagliari Calcio ha fiducia in Lico Giannis la vedo difficile ma io spero che questa operazione di un'uscita avvenga cioè oggi ora tra due ore quello che è Lico Giannis io non lo voglio più vedere a Cagliari sinceramente su Payac vedremo vedremo chiaramente insomma a me questa ottosità di non volerlo provare in un ruolo in un modulo diverso sinceramente non capisco perché non capisco perché Luca Grilli sono Sampdoriano e se abbiamo preso Sao sono molto contento da Genova ciao ciao ma non lo so non lo so vabbè io se sei contento Luca sono contento per te non so di che cosa ve ne facciate di Sao ma soprattutto perché mi pare abbiate molta abbondanza là davanti ditemi se sbaglio ma la San Dario mi sembra che là davanti sia messa molto bene poi magari sbaglio Casano Tube dentro Mattiello e Pellegrini vedremo vedremo se saranno due operazioni insieme perché Mattiello comunque effettivamente nasce più come terzino destro però so che può essere anche schedato a sinistra vediamo effettivamente un alter ego e un'alternativa a Serna non sarebbe male perché parliamo sempre del terzino e sinistro perché secondo me il terzino e sinistro è la priorità assoluta però effettivamente anche a destra Serna fa un tempo fa un tempo e poi basta quindi effettivamente se arrivassero entrambi a me Mattiello non è che faccia impazzire però può essere comunque una soluzione può essere una soluzione vedremo vedremo Alessandro Naccarato Farias quest'anno lo sto rivalutando Luca Grilli quanti anni ha Assau mi sembra 32 33 non vorrei dire una cavolata siamo lì Casato Tube speriamo resti Farias Dark 0909 io prenderei Draxler sì va bene meglio Chris ok ma quindi Kovnacic al Cagliari assolutamente no Kovnacic va in Bundesliga in una squadra che non mi ricordo neanche quali sia ma è praticamente quasi ufficiale Kovnacic ha detto no al Cagliari Alessandro Naccarato ha 31 anni ok avevo detto 32-33 ma effettivamente eravamo lì Luca Grilli dobbiamo cedere credo abbia detto riguardo alla Samp Casato Tube Sport Italia dice Farias alla Samp sì ma continua a ridire quello che ho detto prima Farias alla Samp che ci vanno a fare cioè cosa se ne fa la Samp di Farias e Sau quando ha già Gabbiadini De Fehl Quagliarella Sapunara Ramirez che sono comunque giocatori offensivi cioè non lo so non lo so non so che idea abbia a mente Ferrero ed eventualmente Gianpaolo saluto anche Cristian444 ma Mancoso ormai non arriverà mai più dobbiamo cedere Kovnacchi Polacco sì sì ma dovrebbe essere stato ceduto da quello che so Enzo Scano Giulini bocciato mi do l'ammettere ma hai ragione Enzo al momento anch'io non offro parere positivo a questo calciopercato Andrea cosa ne pensi di Stepischi al Cagliari sarebbe un buon giocatore sarebbe un buon giocatore onestamente tra Kovnacchi e Stepischi nel caso in cui uno dei due fosse stato accostato al Cagliari sarei stato contento anche se vi dico la verità l'idea di prendere un altro giocatore del Chievo sinceramente non è che mi sconquiferi molto addirittura si parlava ieri insomma nelle scorse ore addirittura di Fabrizio Cacciatore fortunatamente Fabrizio Cacciatore andrà al Perugia non lo dico tanto per ma perché insomma era assurdo era assurdo prendere un altro giocatore del Chievo tra le altre cose anche lui 32-33 anni tra le altre cose ha avuto delle problematiche a livello muscolare quest'anno insomma quindi avremmo avuto anche un giocatore che non sapevamo neanche se avrebbe potuto dare delle garanzie sul piano fisico atletico insomma già siamo una squadra vecchia già abbiamo delle problematiche a livello atletico che mamma mia quindi personalmente quando si è parlato di Cacciatore stavo veramente per lanciare il cellulare fuori dal treno l'ho letto ieri mattina mentre ero in treno per andare a Firenze quindi questo è il mio parere Kovnachkalfortuna Dusseldorf ufficiale dimentichiamocelo ok perfetto mi ha ricordato anche la squadra che in questo momento non me la ricordavo sapevo che andava in Germania mi sembra dovrebbe essere in Germania se non mi sbaglio ditemi se ho detto una cappellata o in Austria Bundesliga è il nome sia del campionato tedesco ma anche del campionato austriaco quindi non vorrei dire una cappellata correggetemi nel caso Tony Kared pare sia ancora in piedi la trattativa col Bologna per lo scambio Farias-Falcinelli ma sai sapete tutto è possibile tutto è possibile è chiaro che potrebbe essere ancora fattibile quella operazione Ribaristo finché Farias dichiara di voler andare via Farias fino a domani alle ore 20 è molto probabile che vada via e le vie possono essere Bologna Atalanta Spal Sassuolo si è parlato di queste squadre si è parlato di queste squadre quindi vediamo 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 io riparisco se vuole andare via non trattengo nessuno a Cagli specialmente un giocatore che comunque è stato molto scostante negli ultimi tempi Cristian444 anche Farias alla Samp no poi rimaniamo noi senza attaccanti continuo a ribadire non so la Sampdoria cosa se ne faccia di tutti questi attaccanti Rafael è ancora in rosa non gioca mai ormai da un bel po' si si è sempre in rosa sempre in rosa Luca Grilli chi sostituirebbe Caprari ah giusto Caprari si è fatto male era un infortunio effettivamente grave però ho già detto diversi giocatori della Samp o sbaglio cioè mi sembra assurdo che la Samp vada a comporre il proprio reparto offensivo con 8 giocatori non lo so Dark 0909 vabbè prenderei Messi era meglio bravo Andrea niente aspettative su Despodov Maceri ti dà ancora fiducia per nulla per nulla per nulla Luca Grilli vi scrivo da Genova Blucerchiata ok Bruno Desi ciao Andrea il bulgaro ha 20 anni dovrà ambientarsi nel nostro campionato aggiungo le difese in Bulgaria sono dei colabrodi il talento c'è tutto ma si dovrà valutare il tutto assolutamente d'accordo con te Bruno hai espresso chiaramente il mio pensiero cioè questo è un giocatore che potrà anche avere delle caratteristiche interessanti io non lo metto in dubbio non lo voglio giudicare negativamente non l'ho visto non l'ho visto e non lo giudico negativamente però classe 96 proveniente da un altro campionato siamo a gennaio gli affidiamo sostanzialmente le chiavi dell'attacco se così stanno le cose se così stanno le cose se non dovesse venire qualcun altro io ragazzi ho dei dubbi ho dei dubbi ho delle prepesità e ho tanta paura spero di sbagliarmi voto le manovre di Thomas al Julin lasciamo perdere daremo i voti alla fine al momento sicuramente non è un voto positivo Chris Ok credo che Caprari possa venire al Cagliari facendo uno scambio con Farias sì ma Caprari è infortunato quindi non credo neanche che sia fattibile questa cosa ma poi Caprari non penso neanche si sono di venire al Cagliari ma Nandez verrà non credo proprio l'ho detto all'inizio live secondo me la trattativa Nandez oltre che essere definitivamente diciamo chiusa in negativo adesso a gennaio lo sarà credo complessivamente Nandez verrà probabilmente trattato da altre squadre da altre realtà sicuramente che potranno concedere i palcoscenici migliori perché oggettivamente insomma io ho sognato ho sperato ma in cuor mio sapevo che non sarebbe arrivato perché mi sembrava difficile che un giocatore del genere arrivasse a Cagliari chiaramente ci poteva essere quel discorso della sinergia con l'Inter una cosa che ovviamente mi fa altamente girare i coglioni ancora una volta sapere che eventualmente Nandez sarebbe potuto arrivare in questa modalità però lasciamo perdere ragioniamo di altro Bruno Alves di volta armata Cerri da domani ora è 0-0 torna disponibile perché chiude il cacciomercato finto infortunio per non essere ceduto mamma mia ragazzi lasciamo perdere poi Perone per quanto riguarda l'infortunio di Caprari Luca Grilli bene Nicola Sordas io venderei Barella intanto al Cagliari non vincerebbe mai nulla sicuramente il Barella delle ultime settimane non è un Barella che mi sta soddisfacendo sono uscite anche fuori delle foto insomma di una scena con Nengolan con Beltran mi sai quella foto sinceramente a me non è che dia tanto fastidio a me sinceramente di quello che la gente dei giocatori fanno fuori dal campo me ne frega il giusto a me interessa quello che fanno in campo e il Barella delle ultime settimane non mi sta piacendo sotto il profilo dell'atteggiamento io sono stato uno di quelli che ha sempre detto cedere Barella a gennaio sarebbe una cavolata ma ovviamente il giudizio e la valutazione in questione erano legati al Barella che abbiamo visto sostanzialmente fino a qualche tempo fa il Barella delle ultime settimane è un Barella che sembra molto deconcentrato sembra anche a tratti svogliato sembra anche un po' frustrato sinceramente a Sassuolo ho visto un mix di tutto questo e personalmente un Barella del genere diciamo non ce ne facciamo nulla di un Barella del genere quindi mi auguro che questo calciomercato cominisca il prima possibile perché comunque queste voci in ogni caso destabilizzano io ero uno dei promotori per quanto riguarda un calciomercato che potesse iniziare nel 2-3 gennaio e concludersi il 18 gennaio praticamente la partita prima di Cagliari cioè il giorno prima della partita Cagliari-Empoli questo purtroppo non è stato possibile perché è stata diciamo varata una proroga che ha appunto allungato il calciomercato ristabilendo sostanzialmente la durata classica che c'è stata fino all'anno scorso secondo me questo è stato un fattore negativo perché? perché comunque destabilizza l'ambiente e soprattutto perché dà l'alibi ad una squadra come il Cagliari di arrivare negli ultimi giorni di calciomercato il 30-31 con già due partite di genio di ritorno che sono state già giocate e sono andate una merda in cui potevamo dovevamo sicuramente fare più punti bene questa è una colpa è una colpa che chiaramente la società ha perché avrebbe dovuto chiudere le operazioni più importanti prima di Cagliari e Empoli punto questo era quello che doveva accadere una società seria fa questo poi al massimo arriva negli ultimi giorni e definisce qualche piccola cosa qualche piccolo dettaglio non arriva al 30-31 per ancora risolvere delle emergenze delle priorità assolute che erano chiare fin dal novembre è una cosa veramente vergognosa lo dico lo dico e lo ripeto ragazzi vi dico questo io non vi starò adesso in questi giorni a fare interventi cose non so se ci sarà l'opportunità di fare live e quant'altro spero domani sera di poter fare una live spero di poterla fare in compagnia della Cassa di Scru però non vi starò appunto qui di ora e ora ad aggiornarvi su le situazioni eccetera le valutazioni le faremo alla fine però ragazzi sono veramente molto arrabbiato per come è stata gestita tutta la situazione Alessandro Naccarato prova di coraggio giocare contemporaneamente con Andre Olli Dico Gianni Sessao e Cherry al momento sì è una prova di coraggio clamorosa poi vabbè Cherry via per Castello Tube Giuseppe Mocci spero che questo abbiano chiaramente delle caratteristiche totalmente diverse Alex Fournight il Cagliari vuole sì Pellegrini Luca terzino sinistro S99 della Roma poi Luca Grilli che mi aggiorna appunto sulla diciamo situazione capraria di 3-4 mesi di infortunio Ciccio Cic che pensi di Falcinelli a me piace molto l'unico problema è come giocherebbe il Cagliari con Falcinelli tu come faresti a far giocare Falcinelli e Pavoletti no io credo che Falcinelli comunque come caratteristiche potrebbe andare bene in un questo 4-3-1-2 potrebbe essere funzionale cioè sul piano tecnico sul piano tattico è un giocatore che può ricoprire la prima punta ma può essere anche tranquillamente una seconda punta perché ha più dinamismo di Pavoletti Pavoletti è un giocatore che sostanzialmente lo dovresti servire con i cross appunto cioè Pavoletti è quel tipo di giocatore Falcinelli secondo me potenzialmente è un giocatore che può anche servire in profondità è un giocatore che comunque è più dinamico poi è chiaro che se andiamo a valutare il Falcinelli di Sassuolo di Firenze e quest'anno appunto di Bologna diciamo che è un giocatore chiaramente che non ci può dare delle certezze però è chiaro che Falcinelli almeno in Serie A qualcosina nel Crotone ha fatto in quell'anno in cui il Crotone si è salvato clamorosamente e giocava in coppia ad attacco con Trotta facendo se non mi sbaglio 13 gol a lui quindi personalmente io non ero così contrario all'idea di uno scambio Falcinelli-Farias per il motivo che ho detto prima se Farias vuole andare via preferisco prendermi un giocatore che può avere delle motivazioni di rilancio in un contesto comunque tecnico tattico diverso che possa essere per lui funzionale e magari che nutra anche della fiducia della natura che lo ha voluto questo è il concetto io non sto dicendo che con Falcinelli risolveremo i problemi però onestamente vi dico la verità preferisco un po' di più l'arrivo di Falcinelli a questo Despodov o meglio Despodov può anche arrivare ma un arrivo di Falcinelli non lo vedrei così negativo andiamo avanti AlexFornite fai ottimi ragionamenti fatti assumere come direttore del Cagliari grazie è troppo buono anche se insomma tanto non credo che il Cagliari guarderà mai appunto le mie dirette sì Luca Pellegrini è quasi preso il difensore ok quindi i ragionamenti sono comunque positivi si diceva insomma che comunque si aspettava la fumata bianca saluto anche MusicPassion ciao caro Alessandro Alcarato quanta fiducia hai in Maran adesso? veramente non lo so non lo so in questo momento ho tanti dubbi ho tanti dubbi perché mi sono dovuto ritrovare di fronte ad un Maran ottuso ad un Maran integralista e ad un Maran che addirittura ha preso il virus dei suoi predecessori cominciando a fare delle dichiarazioni appunto di partite in cui ha visto segnali incoraggianti dove non c'erano quindi la fiducia in Maran era tanta fino a qualche settimana fa era tanta anche quando il Cagliari non si esprimeva al massimo quando faceva già intravedere qualche pecca qualche lacuna importante però adesso chiaramente la fiducia si sta abbassando deve riconquistarsi la fiducia io auspico che possa assolutamente riguadagnarsi la mia e la fiducia di tutti perché come ho detto prima un esonero un esonero di un altro fallimento è un altro fallimento di un altro progetto ipotetico sportivo che avrebbe quindi ancora una volta l'esito finale di una bocciatura vera e propria e quindi un esito assolutamente negativo che nessun tifoso del Cagliari deve assolutamente auspicare nessun tifoso del Cagliari deve auspicare un fallimento però è evidente è evidente che Maran deve essere il primo a svegliarsi il primo a riprendere in mano le redini nella situazione perché è evidente altrettanto che le prossime partite saranno partite complicatissime come ho già detto un Cagliari che scende in campo con l'atteggiamento che abbiamo visto nell'ultima partita di Reggio Emilia è un Cagliari che tra Atalanta Minan Sampdoria Parma Inter fa zero punti fa zero punti ragazzi e non lo dico perché voglio essere pessimista lo dico perché è così perché giocare in questo modo con questo atteggiamento con questi dettami tecnici tattici con questa lentezza dove non si verticalizza mai dove non c'è mai appunto movimento senza palla dove il portatore di palla non sa mai a chi dare il pallone nel calcio bisognerebbe che le cose funzionassero come che chi riceve il pallone sa già a chi dare il pallone prima ancora di riceverlo per quale motivo perché ci sono dei meccanismi ben oliati che ti portano a conoscere chiaramente i tuoi compagni e ti portano quindi a delle manovre che possono essere imprevedibili e scusatemi possono essere scusatemi veloci e imprevedibili scusatemi invece quelle del Cagliari sono lente e prevedibili e da qui deriva chiaramente la pochezza a livello di gioco la pochezza a livello offensivo del Cagliari specialmente nelle ultime settimane quindi questo è il succo del discorso quindi hai fiducia in Maran in questo momento sicuramente ce l'ho molta meno rispetto a quella che avevo in passato ma spero di poter avere nuovamente fiducia nel nostro tecnico bisogna appunto stare uniti e sperare che questo avvenga perché se no sono cazzi amari sono cavoli amari andiamo avanti Andrea avere puntato su Mancoso era un'idea ma alla fine non si è scelto di puntarci peggio il Cagliari dell'anno scorso delle ultime partite l'ho detto Alessandro Naccarato il Cagliari delle ultime partite assomiglia a quello dell'anno scorso in alcune in tante partite dell'anno scorso quindi al momento li metto a pari merito cioè il Cagliari visto a Reggio Emilia con Tocciassuolo può essere tranquillamente pari al Cagliari visto l'anno scorso contro il Verona in quella partita vergognosa persa 1-0 con il Verona che aveva addirittura i tifosi che contestavano la squadra si perse con un rigore se non mi sbaglio di Romulo senza fare un teneo porta vabbè lasciamo perdere può essere messo al pari di Sampdoria Cagliari 4-1 altra partita vergognosa in cui eravamo 3-0 per la Samp dopo mezz'ora 35 minuti insomma il Cagliari di Reggio Emilia mi ha ricordato veramente tanto il Cagliari dell'anno scorso di tante partite quindi è chiaro che la preoccupazione la rabbiatura l'incazzatura ci sono per questo motivo perdere ci sta perdere ci sta ma c'è modo e modo di perdere c'è modo e modo quindi questo è quello che vi dico rispetto alla situazione attuale andiamo un po' agli altri commenti poi devo chiudere perché probabilmente tra poco la batteria del cellulare mi abbandonerà P.Fracci salvo dispiace ma giusto così concordo Antonello Secci secondo te faria se resta al Cagliari è una domanda da un milione di dollari non lo so il giocatore vuole andare via ragazzi bisogna capire appunto se riusciremo a piazzarlo se ci sarà qualcuno che soddisferà anche le esigenze economiche del Cagliari il Cagliari se mi sbaglio chiede 6 milioni quindi questa è la logica secondo cui il Cagliari andrà a cedere il giocatore a meno che non si realizzi veramente lo scambio con Falcinelli ufficiale Licociani Salanusei eh sarebbe un'ottima notizia se fosse vera Alessandro Lippi appena collegato mi dici se pensi si debba continuare con Maran inizio ad avere dubbi su Despodo vai letto il mio commento su Facebook allora su Maran ragazzi l'ho detto adesso io credo si debba continuare con Maran semplicemente per il motivo che ho già detto prima abbiamo fatto un contratto banale a Maran a 900.000 euro quindi al momento non voglio pensare alla logica dell'esonero ok però è evidente è evidente che se la squadra contro Atalanta Minan Parma insomma le partite che verranno ad là del fatto di vincere perdere o pareggiare se la squadra dimostra la non compattezza il non gioco e dimostra quindi il nulla cosmico che abbiamo visto specialmente specialmente a Reggio Emilia perché dell'avvisaglie c'erano state già prima ma a Reggio Emilia siamo arrivato al curmine anzi al punto più basso di questa stagione è chiaro che degli interventi in tal senso dovranno essere presi e chiaramente la guida tecnica è normale è normale che vada messa in discussione anche se anche se il primo che dovrebbe essere messo in discussione è Tommaso Giulini che ancora una volta anche Cristiano sta dimostrando la sua incompetenza questo è chiaro quindi quando io me la prendo con Maran o con i giocatori me la prenderò comunque in primis con la società questo è chiaro e nello specifico con la persona di Tommaso Giulini punto poi vediamo un po' altri commenti Ore che è che l'ho visto in incusenza è stata una bestia io non lo conosco quindi anche qui non mi esprimo poi vediamo un po' altri commenti Marco vabbè su Despo dove ragazzi mi sono già espresso magari vi invito a riguardare la live perché l'ho già detto sette volte insomma non mi esprimo non mi esprimo Franco Lauricella ciao mi sono inserito da poco Forza Cagli grande Franco Carlo Rassu può darsi che Maran abbia voluto dare un messaggio a Giulini facendo giocare Lico Giannis può essere ci sta ci sta non è detto anche perché comunque è sembrato abbastanza assurdo il suo impiego però insomma non lo so insomma è vero anche che Maran poi ha sbagliato nell'inizio del secondo tempo perché inserire il fariesto ci poteva anche stare ma come ho detto nel video post partita Faragò che era stato l'unico positivo del Cagliari nel suo ruolo praticamente cosa ha fatto lui ha tolto Lico Giannis ha messo Farias spostando Faragò prima come terzino sinistro poi addirittura Faragò è andato a fare il terzino destro insomma è chiaro che Maran secondo me dimostra in questo momento di capirci poco perché se sposti il giocatore tra virgolette migliore quello che sta facendo meno peggio di tutti lo sposti e lo metti ancora in un ruolo che non è il suo in cui dimostra tutta la sua inadeguatezza è chiaro che dimostri secondo me di non capirci molto poi se lo abbia fatto apposta io non lo so io non lo so perché ovviamente non lo possiamo sapere questo Cosimo Pelia Farias potrebbe rimanere cosa ne pensi l'ho già detto le possibilità che rimanga e le possibilità che venga ceduto in questo momento sono al 50 e 50 semplicemente perché nonostante Farias abbia dichiarato di voler andare via però sappiamo perfettamente che se non vengono soddisfatte le condizioni economiche richieste dal Cagliari e soprattutto se non si trova magari anche il modo per sostituirlo insomma secondo me Farias alla fine può anche rimanere assolutamente ragazzi dobbiamo andare in conclusione dobbiamo andare in conclusione di live e vi dico in conclusione che cosa che questa è una live in cui mi sono sui temi principali mi sono spesso su Pellegrini su Despodov su Sau su Payak su tutte queste voci se ci saranno delle possibilità di intervenire faremo una piccola live magari non lo so stasera no sicuramente stasera non potrete venire domani sarà difficile perché sarò tutto il giorno a Firenze ma vi dico che cercheremo di organizzarci con la Casta di Scru per fare un intervento in live domani sera alla conclusione del calciomercato quindi io non farò interventi registrati in cui esprimerò la mia opinione sul singolo acquisto ve lo dico già al massimo vi manderò qualche notifica sulla community eccetera mi raccomando domani sera vi farò sapere insomma se verso le 21 21 e 30 riusciremo a collegarci per una live in cui andare a fare un ragionamento complessivo su tutte le mostre del Cagliari ok ragazzi io vi saluto vi auguro una buona serata ragazzi e comunque in ogni caso forza Casta di sempre ciao ciao